Ciao, io sono Mimmo Cavaccini, l'informativa che vi lascio riguarda la bella iniziativa contro il cyberbullismo Accendiamo il rispetto. Ovviamente per causa Covid è stato interrotto le manifestazioni che davano l'opportunità di vivere dal vivo e sentire questa problematica, ma ovviamente sui social, sul web, è ancora molto attiva, ci sono tante informazioni, quindi invito a tutti comunque a rimanere connessi su questo problema e aggiornatevi. Io ovviamente avevo piacere essere presente a uno di questi interventi che si è svolto un po' in tutta Italia contro il cyberbullismo, però siamo impossibilitati, ma sicuramente ci avrò occasione di venire a dire anche la mia su questo argomento. Il consiglio non è facile per me ovviamente, io vengo da una generazione dove i social ho imparato ad usarli insieme alla crescita dei social, adesso mi rendo conto che per i genitori non è un compito semplice, potrei dire semplicemente ai genitori magari di stare un pochettino più attenti alle fasce d'età un po' più piccole, perché poi davvero sul web è un mondo così talmente ampio e aperto dove le difficoltà si possono nascondere gli imprevisti dietro qualunque social, qualunque messaggio, qualunque piattaforma, quindi non so sinceramente quale consiglio dare, ma posso dire sicuramente di fare attenzione. Sì, io sono un clown di corsia, anche noi, causa Covid, per ovvi motivi negli ospedali è un po' che non possiamo andare più, ci manca tantissimo e diciamo il nostro è, ci chiamano i dottori del sorriso, noi cerchiamo di portare un pochettino di gioia e serenità a quei pochi minuti che riusciamo a entrare nelle stanze, anche a detta dei dottori, ma è una cosa anche scientifica questa, che il sorriso fa bene, aiuta non solo mentalmente ma anche fisicamente chi diciamo si trova in difficoltà. Top Volley a V, accendiamo il rispetto tutti insieme e un abbraccio a tutti.